Il contrammiraglio Raffaele Macauda, direttore marittimo della Sicilia Occidentale, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Gela, nel Nisseno, dove è stato accolto dal capitano di fregata Lorenzo Masci. In occasione della visita, il direttore marittimo ha salutato tutto il personale militare e civile della Capitaneria di Porto e tutti gli operatori portuali, oltre che le rappresentanze dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, nel rivolgere parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto, ha rimarcato la centralità che la Guardia Costiera riveste nella complessa dinamica degli interessi marittimi e nell'assicurare un solido e competente punto di riferimento per gli enti locali, gli operatori del cluster portuale marittimo e la collettività, in particolare con riferimento al ruolo centrale nella salvaguardia della vita umana in mare. Durante la giornata sono state inoltre effettuate le visite istituzionali presso l'Ufficio Territoriale del Governo, dove gli intervenuti sono stati ricevuti dal prefetto di Caltanissetta, la dottoressa Chiara Armenia. Infine le visite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e al Palazzo Comunale, ricevuto dal Sindaco l'Avvocato Lucio Greco.